Eccoci qua, area valutaria ottimale. Robert Mandel, premio Nobel per l'economia del 1999 e oggi tiriamo su un vespaio. Perché? Secondo Mandel, perché una regione o più regioni dovessero avere la stessa valuta, dovevano sussistere diverse condizioni e stavolta non me ne voglia il mio amico Stefano che saluto a questo punto, ma mi devo mettere a leggere perché ve le riporto proprio paro paro così come le ho studiate io. Perché due zone economiche diverse tra di loro dal punto di vista culturale possono mettersi insieme in una stessa zona valutaria devono sussistere almeno tre dei prossimi quattro concetti, ovvero ci deve essere la possibilità che i lavoratori siano pronti a spostarsi per la ricerca dell'impiego, ci deve essere la libertà di movimento dei capitali, l'economia deve essere diversificata e ci deve essere un sistema fiscale che all'occorrenza sia in grado di spostare denaro da una zona a un'altra. Queste quattro regole sono state guardate e analizzate per stabilire appunto se creare o meno l'euro. Infatti l'euro è nato dal punto di vista scritturale nel 1999 per quanto si è entrato dal punto di vista delle banconote e della circolazione nel 2002, quindi quasi vent'anni fa. Ora so che posso creare un Vespaio ma questa teoria era nata ben più di qualche anno fa e se notiamo lo spostamento delle persone in Europa è possibile, ci mancherebbe altro. Forse abbiamo un limite dal punto di vista linguistico in quanto confrontandoci con gli Stati Uniti chiaramente negli Stati Uniti tutti parlano inglese, ormai americano se vuoi dire, mentre qui da noi in Europa è un po' più difficile parlare proprio tutte le lingue, ma diciamo che le lingue si possono superare. Poi abbiamo parlato che il movimento dei capitali deve essere presente, anche questo direi che non c'è più nessun problema nel movimento dei capitali. Infine si parla di un'economia diversificata, l'economia indubbiamente diversificata in quanto ci sono zone dell'Europa migliori in determinate fronti economici, altre migliori in altri fronti economici, altre purtroppo che non vivono molto bene. L'unico punto diciamo che non è proprio a piombo con queste quattro teorie è il punto della vera e propria situazione fiscale, in quanto per esempio l'Europa non ha una condizione fiscale unica, che quindi sia in grado di spostare da una zona con più necessità a una zona con meno necessità determinate quantità di soldi. funzionicchia a livello di Commissione europea, a livello di Parlamento europeo, ci sono dei contributi che vengono dati a determinate zone, però non è solo a livello di moneta unica e anche a livello di tutta Unione europea. Come sappiamo la zona euro non coincide con l'Unione europea. è una cosa molto lunga di cui parlare, però l'area valutaria ottimale era fondamentale da conoscere nel contesto che stiamo facendo del commercio. So che ho sforato i due minuti, so che ho sforato i tre minuti, so che mi farò odiare, so che farò per nascere un vespaio, però dovevo parlarne. Ci vediamo domani, ciao a tutti!